Ciao The Mike, benvenuti ad una nuova puntata dell'Emotional Trend Chart, la classifica delle 20 canzoni trends della settimana presentate da me ogni domenica qua sul mio canale YouTube. Questa settimana ben due nuove entrate e tante belle melodie da farvi ascoltare nella prossima ora. Partiamo subito dalla prima delle due nuove entrate, la posizione numero 20, è di Mad Wave, è si intitola Ritual. Grazie a tutti. 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 Ritual Mad Wave è la prima delle due nuove entrate della nostra Emotional Trend Chart in questa domenica 14 giugno. Al numero 19 in discesa Ram, Jace Diamond e King Kiona. Hand of Time. Grazie a tutti. 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 Matti, Matti, Matti Belcadi e Gif Beacon, brothers. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 ,,, , , , , . ,,, , ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Time to say goodbye Susanna Driftmoon and Thomas Costland La numero 13 Al 12 in salita Andy Moore e Ram E con Cristina Novelli All Gone Open up your eyes to brighter day It's all that we got and you know that we only live once So take control So make it count And if you just try to hold them you know that they're gone All gone Cause if I remember this secret We haven't got time to waste it in a blink of an eye It's all gone All gone And if you just try to hold it in a blink of an eye And if you just try to hold it in a blink of an eye All gone All gone Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All I need is here I'll remind you When I find you All I need is here I'll remind you And I'll remind you All I need is here 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 All I need The Aurosonic Frame Breeze con la voce di Khatif in discesa al numero 11 Al 10 in salita gli alle de Mambi Elisir Al 10 in salita gli alle de Mambi 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 Al 11 in salita gli alle de Mambi Dice Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. on a tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti